Qualche fischietto, tanto colore, ma una partecipazione al di sotto delle aspettative. Da Parigi a Lione, Marsiglia e altre città francesi, i gilet gialli tornano a scendere in piazza ma con numeri a inizio giornata ancora piuttosto bassi. A mobilitare è ancora spesso la battaglia per il potere d'acquisto. Milito con i gilet gialli fin dall'inizio perché non abbiamo più libertà, il potere d'acquisto ai minimi, siamo tutti disgustati. Continuiamo a scendere in strada perché abbiamo bisogno di essere ascoltati, le abbiamo provate tutte, dicendo la nostra, provando a discutere, a negoziare. Oggi constatiamo però che i risultati sono vari a zero e la situazione si aggrava. Qualche tensione già in mattinata a Parigi dove la polizia ha effettuato circa 200 fermi, sempre nella capitale francese, anche qualche sporadico atto di vandalismo con un'auto e dei cassonetti dati alle fiamme. Grazie.